seconda edizione di carovana dei ghiacciai anche quest'anno 2021 siamo qui sul ghiacciai uno dei più importanti d'italia il ghiacciaio della damello a verificarne le condizioni assieme al comitato glaciologico italiano a tanti amici che ci hanno accompagnato il cai il parco della damello le comunità montane il muse di trento che ha voluto essere con noi in questa iniziativa un'iniziativa importante perché vogliamo far capire quanto sono importanti i ghiacciai per la nostra sopravvivenza quanto dobbiamo cambiare i comportamenti in pianura per riuscire anche a salvaguardare questa bellezza immensa che abbiamo nelle nostre alpi e allora davvero una carovana dei ghiacciai di lega ambiente che deve alzare la voce che ha e sta alzando la voce per dire che è importante fermare la febbre del pianeta fermare e rallentare il cambiamento climatico per preservare anche l'ambiente alpino